Sì, 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 Max, vacciniamoci, se tranquillo vuoi stare, i nonni non baciare, sì, 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 Max, vacciniamoci, il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu, se vuoi andare al bar, felice a festeggiare, le dosi devi far, per fare un buon Natale, mangia il panettone, vai a fare l'iniezione, proteggi gli altri oltre a proteggere anche te, Sì, 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 Max, vacciniamoci, con la terza dose tu avrai feste gioiose, sì, 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 Max, vacciniamoci, il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu, Sì, 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 Max, vacciniamoci, per il calo dei contagi, dosi anche ai remaggi, sì, 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 Max, vacciniamoci, il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu,